Marco Rizzo, consigliere del comune di Castellabate, comunica con piacere di aver avuto la nomina di presidente del distretto blu, che comprende dieci comuni della fascia costiera del Cilento, da Capaccio a Camerota. Queste le parole del consigliere. Ringrazio il presidente del coordinamento dei distretti turistici della Campania per la grande fiducia accordatami e l'onorevole Piero De Luca per la vicinanza politica e l'attenzione che sta rivolgendo al nostro territorio e alle tematiche oggetto del mio nuovo incarico. Sarà un'occasione ottima per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale e della rigenerazione urbana del territorio. Ci saranno una serie di vantaggi per le imprese aderenti, quali la zona, burocrazia zero, ZBZ, agevolazioni finanziarie e amministrative fiscali. Insomma, ci sarà molto da fare anche in questo momento particolare come questo, causa della pandemia da Covid-19, avremo la grande opportunità di intercettare risorse importanti per le realtà produttive del nostro territorio, oggi più che mai indispensabili per una giusta ripartenza del settore produttivo in generale e turistico ricettivo in particolare.